Buongiorno amiche e amici, benvenuti all'ennesima puntata di Tutta Salute di questa settimana che concluderà questa stagione che con voi ha realizzato tantissimo, quindi rimanete in contatto con noi anche attraverso i social. Per parlare di ospedali dopo il Covid, flessibili, tecnologici e collegati al territorio, questo è l'argomento che affrontiamo oggi con il professor Dario Manfellotto, direttore dipartimento di medicina interna dell'ospedale Fatebene Fratelli di Roma e presidente Fadoi, federazione che riunisce i medici internisti ospedalieri. Ben trovato professore. Grazie, buongiorno. Allora, prima del Covid la nostra sanità sembrava ben organizzata, non pensavamo, non eravamo pronti ad affrontare un'emergenza di questo tipo, magari potevamo pensare che nel mondo occidentale questo non capitasse, è così professore? Eravamo preparati per l'emergenza, avevamo dei piani per l'emergenza, ma devo dire che nessuno avrebbe potuto mai immaginare un'emergenza di questo genere. Sarebbe facile oggi fare il grillo parlante e dire io l'avevo detto. Credo che nessuno di noi poteva immaginare cosa sarebbe successo. E allora le chiedo, anche se non siamo ovviamente fuori ancora dal problema, dal pericolo, se si può tentare di fare un bilancio, quali sono stati gli aspetti più critici per quanto riguarda gli ospedali e che cosa non ha funzionato, se si può cercare di capire, di comprendere. Ma guardi, adesso la tendenza è sicuramente al miglioramento, le cose stanno andando molto bene, i casi stanno riducendo notevolmente, i ricoverati in ospedale sono ormai ridotti veramente al minimo. Se vogliamo analizzare che cosa non ha funzionato, io direi che tornerei sull'aspetto di prima, che nessuno era preparato. L'arrivo di centinaia, di migliaia di pazienti contemporaneamente negli ospedali, in condizioni molto gravi e anche di gravità, in continuo peggioramento, è qualcosa che è stato molto difficile affrontare. E non è stato un problema soltanto del nostro Servizio Sanitario Nazionale, perché come sappiamo lo stesso problema c'è in tutti i paesi del mondo. Anche nei reparti stessi ci sarà una riorganizzazione, perché sappiamo che il Covid colpisce principalmente i polmoni, ma disturba anche cuore, reni, porta problematiche anche di questo tipo. Sì, una cosa che abbiamo sicuramente imparato è che questo virus colpisce tutti gli organi, gli apparati dell'organismo. Quindi è quella che noi chiamiamo un'infezione multisistemica. Tutti i sistemi, cardiovascolare, respiratorio, digestivo, neurologico, il sistema coagulativo, il sangue, tutto può essere colpito con gravità variabile da questa infezione virale. Quindi l'approccio non è soltanto quello all'insufficienza respiratoria come è stato all'inizio, ma è un approccio globale, un approccio in cui è l'area medica, l'area dei medici, l'equip con molti specialisti che affronta il caso. Io rivendico il ruolo esercitato dai miei colleghi della medicina interna, gli internisti ospedalieri che hanno gestito il 70% dei pazienti ricoverati, proprio rimodulando la nostra, la loro attività clinica e riorganizzando i reparti. Allora, come possiamo immaginare gli ospedali del futuro? Sono già stati individuati quelli che saranno ospedali covid e in base a quali criteri, se sì? Ma noi dobbiamo essere preparati con quelli che possono essere definiti degli ospedali tipo fisarmonica, degli ospedali modulari che si allargano e si rimpiccioliscono a seconda della necessità. Prevedere che ci sia bisogno di X posti letto non è possibile, però dobbiamo essere pronti ad avere l'area di emergenza intensiva, abbiamo l'area semi-intensiva, dei reparti che si allargano a seconda della necessità e altri che si rimpiccioliscono, superando i vecchi steccati che abbiamo negli ospedali fra le varie divisioni. Anche attrezzandoci, come abbiamo fatto, con interi reparti che sono stati trasformati in aree covid proprio per affrontare tutti i malati con infezione. Le strutture private saranno coinvolte? Ma guardi, questa è una domanda importante perché c'è sempre una certa diffidenza quando si parla delle strutture private. Allora, una cosa è la clinica, la casa di cura privata, in cui una persona va, paga o paga l'assicurazione, è un rapporto tutto privato. Ma in Italia ci sono tantissime strutture private che fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, sono a tutti gli effetti Servizio Sanitario Nazionale. Le parlo della mia struttura, fate bene fratelli, è una struttura privata ma è classificata, c'è il pronto soccorso, fa parte del Servizio Sanitario Nazionale, il Gemelli di Roma, il San Raffaele di Milano, sono strutture private, però non vuol dire che non fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, anzi, siamo stati in prima fila per affrontare l'emergenza Covid. Quindi il privato privato chiaramente rimane fuori, ma il privato che fa parte del Servizio Sanitario Nazionale è Servizio Sanitario Nazionale. Sentiamo purtroppo spesso parlare di questa seconda ondata prevista in autunno. Saremo pronti nel caso ad affrontarla, secondo lei? Ma guardi, credo che la parola giusta sia dobbiamo anticipare. Noi abbiamo una serie di indicatori, come il cruscotto di una macchina, no? Degli indicatori che ci dicono lì stanno aumentando i casi, lì stanno aumentando i pazienti positivi, lì ci sono più ricoverati, dobbiamo individuare i focolai, dobbiamo poi tracciare immediatamente le persone infette, isolarle, ricoverare nei casi necessari, cominciare immediatamente il trattamento. E abbiamo già individuato dei trattamenti in fase acuta, che possono aiutare a limitare il numero dei pazienti che peggiorano e che finiscono in terapia intensiva. Questo l'abbiamo sicuramente imparato nella gestione internistica di questi pazienti. E a proposito di gestione, ospedali e assistenza territoriale, due realtà che non sempre hanno dialogato. Perché, secondo lei, si potrà migliorare il loro rapporto? Sì, sicuramente sì, perché il rapporto con il territorio è fondamentale. Agevolare i percorsi per arrivare agli ambulatori in ospedale, i percorsi per la presa in carico territoriale dal medico di medicina generale, quindi da tutte le strutture del territorio. Attivare all'interno degli ospedali anche degli ambulatori di follow-up, come diciamo, cioè di controllo a distanza dei pazienti, per vedere che complicanze hanno sviluppato. Per esempio, nella medicina interna dell'ospedale di Savona hanno creato un modello di controllo a distanza, di follow-up dei pazienti, che la regione Liguria ha fatto proprio. La stessa cosa, Milano, Monza e la regione Lombardia, regione Toscana. Cioè, la regione si è fatta carico della presa in carico di questi pazienti che possono essere poi controllati in un ambulatorio dedicato per vedere che problemi sono rimasti e anticipare le complicanze. Quindi, grande rapporto con il territorio. E anche a questo proposito, le leggo un articolo. La nuova sanità caccia di infermieri di famiglia. Spinta dall'emergenza parte una riorganizzazione destinata a durare. Le regioni devono varare un piano e coordinare i servizi. Allora, facciamo chiarezza sulla figura degli infermieri di famiglia, della necessità di queste figure sul territorio e quale sarebbe il loro ruolo nello specifico. Ma sono figure importanti perché noi abbiamo fino adesso avuto purtroppo un'enorme burocratizzazione del rapporto con l'assistenza domiciliare, gli infermieri domiciliari, tutto quello che è la gestione a casa del paziente. È sempre complicata e gravata da un'enorme pratica burocratica che rende tutto difficile e rallenta. Allora, agevolare questo percorso, ridurre la burocratizzazione, dare spazio a queste figure che possono assistere il paziente a domicilio, possono fare una fleboclisi, possono fare una pulizia, una medicazione di decubiti, medicazioni più importanti, infusioni, nutrizione per via parenterale o per via enterale, cioè attraverso un sondino nasogastrico o altro. Tutte queste procedure mediche possono essere realizzate a domicilio con un'organizzazione che non è complicata, ma che deve essere assolutamente liberata dalla burocrazia. Quindi, infermieri a domicilio e il ruolo del medico di medicina generale. E allora, professore, con questa sua risposta, sicuramente avrà già risposto anche a Francesca, che ci aveva scritto, non è ben chiaro in quali casi dovremmo rivolgerci all'infermiere di famiglia e quando al medico di base. Quando al medico di base? Perché all'infermiere di famiglia l'ha appena detto. Guardi, il percorso è questo. Una volta che noi dall'ospedale dimettiamo il paziente, facciamo una lettera di dimissione rivolta al curante, al medico di medicina generale, che prende in carico il paziente e contemporaneamente, d'accordo con i servizi domiciliari, si attiva un percorso che prevede le medicazioni, la parte medica, la parte infermieristica. Tutto deve essere assolutamente deciso e programmato, perché così il paziente non deve girare fra un'asle e l'altra, fra un ufficio e l'altro, ma il suo percorso è già ben definito. In un flash, la risposta per Cristina, ho sentito parlare molto di telemedicina, ma in futuro funzionerà in tutti gli ospedali? Ma guardi, tutti gli ospedali si stanno attrezzando, ci stiamo attrezzando, anche con la televisita e il controllo a distanza, è un'assoluta necessità. In molti casi non è necessario che il paziente e i suoi familiari vengano in ospedale, un controllo, un consiglio, una valutazione di esami o di immagini radiografiche può essere fatta anche con il mezzo televisivo. La ringrazio, grazie al professor Dario Manfelotto, direttore dipartimento di medicina interna dell'ospedale. Fate bene fratelli di Roma, grazie per essere stati con noi. Grazie, buona giornata.